Cerchiamo intanto di fare chiarezza, io ci provo, però insomma c'è un po' di confusione. Intanto partiamo dalla notizia ufficiale perché è stato rinviato il match tra Pescara e Dentella, originariamente in programma domani all'Adriatico Giovanni Cornacchia. La Liga B, anche fissato alla data del recupero, si giocherà Pescara e Dentella martedì 27 aprile. Attenzione perché oggi, proprio nella tarda, mattinata di oggi, si è svolto un consiglio direttivo piuttosto acceso, che ha votato per il blocco del campionato, appunto per consentire alla Pescara di recuperare le partite che non potrà giocare a causa dell'emergenza Covid. Dunque si giocheranno tre gare regolarmente, quindi lo stop dopo il 24 aprile. Questo che cosa significa? Intanto la decisione è stata presa dal consiglio direttivo Marina, ma deve essere ratificata domenica dall'Assemblea di Lega, salvo sorprese. Quindi condizionare sempre quanto mai d'obbligo in questo caso. Allora, che cosa può succedere? Che Pescara e Dentella, la data ufficiale del rinvio, martedì 27 aprile. Probabilmente il Pescara, nel blocco, nell'asso di tempo in cui sarà bloccato, sospeso il campionato, giocherà gli altri due recuperi. Quindi, vale a dire, col Cosenza, probabilmente sabato 1 maggio e martedì 4 maggio Pescara-Reggiana. Infine, il 7 e il 10 maggio, vale a dire venerdì 7 maggio e lunedì 10 maggio, andrebbero in scena le ultime due gare di campionato con tutte le squadre. Quindi questo è il sunto di quello che è successo oggi nel consiglio di direttivo. Ribadiamo ancora che la decisione è stata presa, ma deve essere ratificata dall'Assemblea di Lega in programma domenica prossima. Dunque, tra due giorni, salvo sorprese. Per quanto riguarda invece le notizie della squadra, giustamente tu mi chiedevi situazione tamponi. Oggi un nuovo giro di tamponi. Per i negativi ricordiamo che le positività nel Pescara, per quanto concerne i giocatori, sono 7, più un membro del gruppo staff. Oggi nuovo giro di tamponi, intorno alle 11.30, quindi in serata conosceremo l'esito. Intanto la squadra non si sta allenando, ecco questa è una cosa che dobbiamo dire, in attesa di comunicazioni da parte della ASL, che ieri ha bloccato in via ufficiale le attività del Pescara. Quindi in questo momento i giocatori, per esempio questa mattina, per andare a dire che il problema si sono allenati da casa, via Zoom, esercizi vari in collegamento, in contatto con i vari preparatori. Però domani potrebbero anche tornare al campo, allenamenti in questo caso sempre individuali, rispettando il distanziamento. Però staremo a vedere nelle prossime ore. Anche perché dovranno attendere, immagino, anche l'esito di tamponi. Esatto. Perché fino a 8 dovrebbero essere i giocatori per cui è ufficiale che si sospende tutto, cioè dovrebbero essere più di 8, giusto? Sì, più di 8, però in questo caso è intervenuta l'ASL e quindi il Pescara deve rimanere fermo, non potrà giocare fino al 26 aprile. E praticamente questo divieto parte da lunedì scorso 12 aprile, quindi per 14 giorni. L'Apidario Massimo è una decisione che in qualche modo aiuta il Pescara? Io sono portato a pensare di no, a dire di no, perché è chiaro che il Pescara in questo momento stava in un buon momento, attraversava un buon momento. Grassadonia, come ho ripetuto ieri con Carmine, con il direttore, aveva trovato la quadra, insomma tre risultati utili consecutivi, morale anche alto, discretamente alto, a dispetto di una classifica ancora piuttosto deficitaria e quindi fermarsi adesso io credo che non sia la cosa migliore.